Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. La scorsa edizione del GF VIP per moltissimi è da dimenticare, proprio per via di una serie di tristi episodi che hanno innescato polemiche davvero dure da placare. Purtroppo, alla luce di come è già partita, anche questa nuova edizione che ha aperto i battenti il mese scorso non sembra promettere nulla di buono, contrariamente a quanto Pier Silvio Berlusconi si era vivamente auspicato. La gravità delle dichiarazioni di una delle concorrenti del Grande Fratello VIP stanno mettendo in discussione il proseguimento della trasmissione di Canale 5. Ad aizzare il Rumors che è diventato sempre più forte nel corso delle ore, è stata una ex vippona effervescente, esuberante, anticonformista, dalle mega unghie laccate di rosso. Parliamo di Eleonore Ferruzzi, che ha preso parte al Grande Fratello VIP 7. L'icona trans si è lasciata andare ad una confessione inedita che, se confermata, non sarebbe affatto bella né per Alfonso Signorini né per la produzione del GF. Parliamo, dunque, di indiscrezioni che dovrebbero ricevere, il condizionale ed obbligo, conferma o smentita nelle prossime ore. Sta di fatto che la Ferruzzi, per difendersi dagli attacchi degli haters, su Twitter ha dichiarato. Che cosa mi doveva insegnare un gioco dove sono stata strapagata per partecipare dove è tutto finto, dove gli autori ti dicono quello che devi fare. Credi ancora che io sia stata sbattuta fuori magari con il vostro televoto? Ma svegliati! È tutto pagato anche le umiliazioni tesoro. Per la Ferruzzi tutto, all'interno del reality, sarebbe finto, compreso il voto espresso da chi guarda il grande fratello. Cosa succederà ora? Le dichiarazioni clamorose dell'ex Vippona verranno smentite, verranno archiviate o, nella peggiore delle ipotesi, porteranno alla chiusura del programma?